Buongiorno, vi chiederete perché un pazzo al buon'ora, alla domenica mattina, sia in Viale Isonzo a Milano. Questa è Viale Isonzo, vi faccio vedere alle mie spalle. Traffico cittadino, con il sole che mi mette nella posizione sbagliata. E qui, alle mie spalle, c'è il Grandi Sconti Palace. Ragazzi, sapeste? Allora, adesso vi racconto. Prima una singolare coincidenza. Qui nel marzo 2006 c'era anche il giovanissimo Benzema, in ritiro con il Lione. Prima di Milan-Lione, quarti di finale di Champions League, primi di aprile probabilmente. Benzema che saluta il Mondiale. E questo mi spiace perché so che Carlo Ancelotti certamente sarà il primo ad essere dispiaciuto. Benzema è un grandissimo campione in campo e fuori, come atteggiamento e come colpi. E quindi le giocherà a tutti i giro, ragazzi. Però dobbiamo essere contenti per Olivier e dare forza a Olivier. Giocare a pallone non può essere diventato un problema. E certamente Olivier si farà trovare pronto per nuove responsabilità che sono quelle che lo tengono vivo, che lo tengono giovane. Lasciatevi ricordare intanto OneFootball, OneFootball con la sua app, OneFootball con tutti i suoi contenuti. OneFootball è a vostra disposizione perché l'app di OneFootball viene usata da 3 milioni di sportivi in Italia, cioè l'app che vi consiglio ogni giorno. Non è che... cioè 3 milioni. Quindi scaricatela, è gratuita, l'app di OneFootball è a vostra disposizione. Giro sempre per trovare la luce giusta. L'app di OneFootball è a vostra disposizione. Nella descrizione di questo video c'è il link, scaricatela. Grande copertura anche dei mondiali, tanti highlights, tanto calcio, partite singole di serie B, di serie C, le potete acquistare. Sono le uniche cose che costano. Ma senza dovervi abbonare, basta prendere la singola partita. Scaricate l'app di OneFootball, l'app di OneFootball vi aspetto. Sarò mica venuto fin qui per parlarvi di Benzema. No, la copertina è nei miei luoghi più cari. Allora dovete sapere che Viale Isonzo è una traversa che va, diciamo, da... Siamo tra Porta Ludovica e Piazza Lelodi a Milano. Più o meno. No, Piazza Lelodi è qui vicina. Allora, dovete sapere che dopo Istanbul e prima di Atene, quasi tutte, perché ad esempio vi ho spesso ricordato, ormai inflazionato, ricordo, prima della partita perfetta del 2 maggio 2007, Milano Manchester United 3-0, il Manchester United era al Melià, quindi in quella mezzanotte andai a fare strani rituali davanti all'albergo dei Red Devils. Ma quasi tutte le avversarie del Milan in Champions League in quegli anni, 2005, 2006, 2007, venivano qua. E il cui presente, tutte le mattine di una partita di Champions League, cioè quando si giocava la sera, cioè il giorno stesso della partita, con la mia bella macchinetta, io passavo dalla carreggiata, diciamo, che va verso nord di Viale Isonzo, guardavo il Visconti Palace, andavo in Piazza Lelodi, facevo la rotatoria e tornavo davanti al Visconti Palace a parlare con l'albergo, a spiegargli che non ero lì per gufare l'avversario, ma perché doveva fare qualcosa alla struttura per darci un avversario che capisse che la nostra era una missione buona e giusta, perché avevamo sofferto troppo a Istanbul. Io iniziavo a venire qui una mattina di dicembre del 2005, dovevamo giocare con lo Schalke. Era una partita durissima, perché, ad esempio, si giocava l'ultima gara del Girone, se avessimo fatto 3-3 sarebbe passato lo Schalke, se avessimo vinto noi sarebbe passato il Milan, se avessimo vinto lo Schalke sarebbe passato lo Schalke, pareggiando 0-0 qualificato Milan, pareggiando 1-1 qualificato Milan, pareggiando 2-2 qualificato Milan, pareggiando 3-3 qualificato Schalke e vincemmo 3-2, quindi capite che la preghierina, dove si trovava lo Schalke 0-4, un qualche risultato, un qualche beneficio l'ha ottenuto. Poi mi ritrovai qui due volte per il Bayern, perché noi in quegli anni, da Istanbul ad Atene, ci ritrovammo a giocare con il Bayern due volte, negli ottavi di finale della Champions 2005-2006 e come ben sapete nei quarti di finale della Champions 2006-2007. Io venivo qui in particolare, ma non solo per la parità di ritorno, ma con uno spirito particolare per la parità di ritorno, perché la parità di ritorno decideva e col Bayern la parità di ritorno era negli ottavi della Champions League 2005-2006. E all'andata a Monaco di Baviera avevamo fatto 1-1, gol di Balla, che pareggio sul rigore di Scherchenko non avevamo giocato bene. Non avevamo giocato bene, era un mila e mezzo e mezzo che poi si risollevò. Io ho visto quest'anno la Juventus, quando la Juventus ha perso col Maccabi, che Andrea Agnelli ha un po' preso di pet tutta la squadra, la stessa cosa l'aveva fatta Galliani a Palermo in Coppa Italia nel febbraio 2006. Perdemmo 3-0 a Palermo, dopo l'1-1 di Monaco di Baviera e prese di petto la squadra, perché c'era da fare il ritorno poi con il Bayern qui a San Siro. E la squadra si risollevò, battemmo il Bayern 4-1 e io poi quando mi ritrovavo a passare nei miei tragitti di lavoro per tornare a casa al Visconti Palace e ringraziavo. ero stato qui per il Lione, la mattina di Milan-Lione, all'andata avevamo fatto 0-0. Insomma io continuo a chiamarla la Gerlain, al ritorno poi vincevamo 3-1 parita durissima. Benzema era un giovane, era un ragazzo all'epoca, era il Lione di Giunigno, di Fred, di Malouda, insomma dei giocatori molto molto importanti. E io veni qui la mattina di Milan-Lione a fare la solita preghiera, la solita uspicio. Dovete capire quanto abbiamo sofferto, eccetera, eccetera, eccetera. Il Barcellona, se ben ricordo, in semifinale 2005-2006 non era venuto qui. E poi, insomma, evidentemente era destino, perché noi nel 2005-2006 speravamo già un anno dopo, ricordate lo striscione della curva, la prima partita dopo Istanbul fu Udinese-Milan, a Udine, l'ultima di campionato, e la curva rincuorò la squadra. Forza ragazzi, poi ci rivedremo a Parigi. A Parigi però c'era Barcellona-Arsenal, non c'era Liverpool. Evidentemente qualcuno lassù aveva deciso di ascoltare qualche preghiera, o si era accorto di quanto avesse sofferto il Milan, per cui aveva deciso che il Milan poteva prendersi la rivincita contro il Liverpool, non contro il Barcellona o contro l'Arsenal. E allora, rieccoci qui, contro il Celtic, 0-0 all'andata, a cui feci un preghierone. Qui fu una giornata lunghissima, perché voi dovete sapere che tutte le volte che io venivo qui al Visconti Palace, passavo e ripassavo, pregavo e spiegavo, poi andavo a bere un caffè sempre in un solito bar in comune, nei pressi di Milano, che si chiama La Chiarella, e poi andavo sempre a pranzo dalla mamma e inevitabilmente la mamma a fine pranzo mi faceva il caffè nella tazzina col simbolo del Milan, inevitabilmente, la mia mamma lo faceva proprio con il cuore. E del Celtic poi vi parlerò più avanti, ma nel luogo più appropriato. Poi Celtic, evidentemente poi il Bayern Monaco, che era tornato qui, anche per i quarti di finale, e insomma, molte volte venni qui per i tedeschi, ecco, davanti a questo albergone che ospitava i nostri avversari di Champions League, che da Istanbul ci hanno traghettato sulle ali della vita ad Atene. Insomma, questo albergo si chiama Gran Visconti Palace, ma nella mia testa è da Istanbul ad Atene, per tutte le vigilie pregate qui. Ragazzi, portate pazienza, sul mio canale i miei racconti che vi dovete beccare, mi spiace. Ci vediamo più tardi, ci vediamo più tardi perché poi vi racconto di Milan Celtic bene, ma nel luogo più consono. E poi, grande pomeriggio in compagnia di tifosi rossoneri a un Milan Club. Poi vedrete tutto, sempre qui, più tardi.